E' un disco di cose semplici, scritto insieme a Vito Giordano, il maestro Giordano, ed è un disco registrato dal vivo durante un concerto al Real Teatro Santa Cecilia. E' quindi una serie di brani scritti da noi, che come noi spesso diciamo, come stare a tavola insieme, pochi ingredienti, ma buoni. Infatti siamo in quattro, io Giordano, il maestro Spitaleri e il giovane Ciccio Foresta. E appunto senza sovrincisioni né particolari orpelli cerchiamo di trasmettere il nostro senso di amore per la musica e per le cose semplici. Noi tre siamo insegnanti, io Vito e Diego, siamo insegnanti alla Scuola Popolare di Musica e alla Fondazione The Brass Group. Vito è anche insegnante in conservatorio, io ho fatto le masterclass in conservatorio. Sì, chiaramente anche questo è un modo per propagandare il senso della musica semplice ed efficace. Avete anche altri prodotti, questo è il vostro primo lavoro insieme? È il primo lavoro insieme, lo presentiamo in auditorium e poi a fine giugno siamo a Pompei al Jazz It Festival, che è una delle più grandi convention annuali di tutti i musicisti jazz italiani. Io andiamo a presentarli.